Eccoci qui ragazzi prima del video, siamo nel secondo episodio della MADPAC 14.30 come vi ho promesso stamattina Anche in questo episodio cerchiamo di raggiungere i 400 mi piace ragazzi, spero comunque che vi apprezzate questa idea di due video al giorno ogni tanto quando riesco E se volete scrivetemi nei commenti i due video che volete vedere domani, io pensavo di registrare One Piece e Mod Però scrivetemi voi la mod in descrizione, noi ci vediamo dentro al video, vi lascio l'intro bella Ciao ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo video, lo scorso episodio ci siamo lasciati così Questa, qua si può allungare questa Ok quindi ho due, quindi ho due, buttiamo tutte le cose poi ci pensiamo dopo Ok chiudiamoci qua dentro, così, ok un po' di legno lo buttiamo sempre dietro Così, così, sì, io voglio, non voglio finestre Marci, non voglio finestre, voglio essere claustrofobica Ok, 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 quindi piazziamo altrettissimo Benissimo Vorremmo essere più o meno al sicuro Ok, sì, sì ragazzi, questa è la base masosa Ah, ok Ci siamo, allora adesso bisogna fare delle scappatelle a casa E prendere tutto Va bene, quindi ci vediamo tra poco Quindi ci vediamo fra pochissimo Ragazzi sono tornato a casa e ho trovato che avevamo del gol, cioè ho trovato, ho visto che avevamo del gol Quindi possiamo farci benissimo la bag, quella d'oro, cos'è meno faccio subito il trasferimento completo E si fa con una chest, una chest, un altro pezzettino Cos'è meno portiamo ad Alice tutto che è lei la casalinga, si stava tutto Hai capito, si stava tutto casalingo, tutto 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 Perché si diceva questo pazzo Non si fa così, vero? No, il contrario, sapevo che volevo fare il contro No, aspetta, non mi ricordo già più Ok Allora, io sto facendo il teletrasporto e delle chest In un frattempo comunque Quindi faccio una bella cosa Questa abbiamo anche quattro pezzi giù Perché non va? Ehi Eh? Ah, perché ok In vero, così Avevo sbagliato ragazzi Avevo sbagliato Avevo sbagliato Eh, ho sbagliato Eccoci qui con la nostra borsa Allora, cominciamo a prendere tutto da qua Facciamo così E ci buttiamo tutto qua dentro Poi Prendiamo tutto da qua Oh, avevamo anche del ferro Figo Figo, figo, figo Davvero? Sì Ora mi tipo da te ali No, 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 non ti parti da me Io non ho il waypoint a casa nostra di là Eh, allora aspetta Appena abbiamo finito il trasferimento di telechestra Almeno abbiamo una base Tra virgolette Eh, ci possiamo ritrovare Sì Ok ragazzi Dopo aver messo anche lo spawn point E poi ovviamente Perché c'è V-Sync E qua Tutto Crash Allag Madonna St'episodio Madonna Non vuol cazzo Ok V-Sync Tac Vedete che si Non sblocca 60 FPS Ok Questa è la nostra base E penso che comunque Se ce lo dite voi nei commenti Fatecelo sapere Potremmo fare anche la casa off camera Oppure Se volete La casa la facciamo tutta on camera Tipo un episodio strafalgo Dell'universo Sì Più oltre Esatto Abbiamo Ice 79 Mindfactory Reload Cosa serve? Sai per fare il Frosted Stone Per fare l'ice brick Attenzione E per fare il large ice brick Figo Figo Abbiamo anche il Builder's Wand Quando right click On a block It checks your inventory To see if there are blocks Of the same kind Ah Sai cosa devi fare? Sì Dovino Abbiamo un castello vicino vero? Sì Una scappatella al castello Ragazzi direzione castello 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 Io direi Se mi ascolti un attimo Mi butterai qua Odio qua c'è già tipo Uno spoon Che che è successo? Oh my god Oh mio amante C'è Walker C'è Texas Ray Oh che paura Eh Robin Hood C'è la freccia in testa Dietro di te Mori? Dietro di te Block it Oh my god Ma prima era di pelle sto qua Oh my god God Ok Cosa c'ha l'arco Di Che anche quella di pelle Non è che Dai Younger Games si insegnano Younger Games si insegnano Muori Ha bevuto apposizione di forza sto stronzo L'ho visto L'ho visto Ok qua c'è tipo dell'uranio Però io direi di fare una cosa In generale Guarda Di entrare spudoratamente così Infatti Oddio ho beccato subito la cesta Oh la cesta Che cura hai Oddio Che cosa non ti ho visto? Ho un cuore Io non ho due Io non ho tre Perfetto Oh oh That kill bitch Mi hai ammazzato? Sono un po' avvelenato E ho un po' di fane Mana cake Eh io Oh no 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 Che cos'è questo? Non è solo che tipo c'ho un cuore Sono morto Ho trovato Della patite Oh si 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 Quella lì ci servirà per fare Per la forestry Oh perfetto Ho premuto shift Me ne ha dato 30.000 Eh si Giusto giusto Eh si perché C'è tipo una mod Che ci permette di fare appunto Ste cose 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 Le cose cose Modose Allora se io vado sopra qua Ho due stack da 64 Perfetto Perfetto Però ragazzi Inizieremo anche tranquillamente Le cose modose Yes Voi diteci quello che dobbiamo fare Eh noi lo facciamo Dimmi Sono qua dietro di te proprio Oh bello Mi piace come avete redatto La vostra casa Di rosso Ti piace Io ho un cuore Oh my god 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 Je ne peux aiutar te Oh my god Io c'ho un cuore Perché sono pieno di cuore adesso Ma che cazzo sta succedendo Io ce la force field Non è vero Oh oh Tipo ti veloce Tipo ti veloce Cazzo 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 Merda Cazzo Merda Cazzo Sto entrando in una casa Oh 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 Aia 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 Signore 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 Ok 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 cibo Tanto cibo Però il cibo ce l'abbiamo Quindi va a fanculo Glass protection Non ci sei Io avrei Ho tratto dei cercoli Bello Ma loro non possono aprire Le ceste Eh no mi sto ammazzando da fuori così però Adesso la figlia Igo Ciao Che nemico che sei Marci Oddio Aiutami aiutami Come faccio Non posso mettermi in mezzo Perché Fatti un buco di qua Fatti un buco di qua Tipo Oh È entrato Mori 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 Sì Che fastidio Ma io c'avevo una bomba in casa Oh Cacchio No 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 Perché noi Oh Marci 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 Stanno entrando Stanno entrando Marci Marci Sono morto Tipati Tipati veloce Tipati veloce Che ho fatto la stronzata Io ho preso l'arco Guarda sta merda che sta Cittando Ma da che cosa volete fare? Sì mi vado a ammazzare Visto Come faccio a guadagnare i cuori? Oh my god Oh my little god Come ho fatto a morire? Marci Non ci credo Tipati davvero veloce L'ho fatto Ok Marci aiuto 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 Madonna Quanto gt c'è Oddio Madonna No 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 ma non puoi capire Non puoi capire Uno l'ho ucciso No 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 Per favore no Scappa anche te Scappa anche te Vado a casa a prendere la bomba Oh un piccone con un unbreaking deficiency Marci metti la bomba Devo farmi ammazzare Ammazzatemi Ammazzatemi veloce Ammazzatemi Ammazzatemi Oh my god Ok 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 Potremmo solo cercare Che c'è Oh mio dio Adesso Qua Non c'è Qua Dai apri apri Se c'è Ma perché si ricaricano Eh sì Madonna beata Tu muori Bomba Non ci sono le bombe Salti tu salto io Capito L'avevi vista Oh l'ho trovato Due Sto arrivando No io non le dico Oh Marci no Ok Ok Sì 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 è una grande merda No la buttate qua Ho sbagliato Oh no Marci non farei cagate Dai Eh non sapessero che si buttasse Invece no Attiriamoli qua Attirali qua Attirali qua Sì sta laggando Sta laggando No Connessione Dove sei Perché li vedo tutti fermi Anch'io Mi sa che avete poi esploso Il server No no Non di già Non di già No Ti hai crashato? No Non ancora Ma il server sarà esploso veramente Beh Lo scoprirete nel prossimo episodio Iscrivetevi al canale di Alice Per essere sempre aggiornati Per vedere il quinto episodio Bella ragazzi